Buongiorno, sono Mirko Giordani, consigliere di minoranza del Comune di Rio. Volevo intervenire sulla problematica delle fornacelle. Io devo chiarire che ho una doppia funzione. Prima di tutto sono consigliere di minoranza e poi mi considero anche, tra l'altro, parte l'ESA in quanto sono anche titolare dell'attività commerciale proprio confinante. Con questo tipo di intervento che si è verificato domenica sera, è stato l'abbice di tutta questa situazione che ormai si trascina da circa dieci mesi. Cosa voglio dire? Prima di tutto voglio dire che noi come popolazione dobbiamo rivelarci, rivelarci in modo chiaramente nell'ambito legale, però dobbiamo far sentire la nostra voce. Dobbiamo sentire la nostra voce perché siamo stufi di questi interventi fatti da privati, non perché io sia contro i privati, assolutamente. I privati devono avere tutti i diritti e tutte le possibilità di poter fare gli interventi che ritengono opportuni sia privati residenti sia privati che vengono da fuori, sia investitori insomma e tutte le persone che vogliono fare determinati tipi di interventi. Però questi interventi vengono fatti senza intralciare i diritti di terzi. Cosa voglio dire? Voglio dire che fenomeni tipo Ortano, tipo la Villa del Direttore e tipo questo che sta succedendo alle Fornacelle dove praticamente c'è una viabilità con una carrabilità, la viabilità, ci tengo a sostenerlo, da quasi 40 anni non possono essere messi in discussione da interventi fatti da persone, da privati che vogliono praticamente precludere l'accesso a questi beni che sono non nostri, sono della collettività. Ci sono delle situazioni particolari, ho ricevuto centinaia di migliaia di telefonati di turisti che non sono residenti, che però vengono e frequentano questa spiaggia a circa 40-50 anni e mi hanno telefonato insomma e con le lacrime biangevano insomma cose che c'è, c'è anche del, cioè non è che si può ricondurre tutto solo all'aspetto meramente economico, ci sono anche dei valori, ci sono anche dei sentimenti e noi siamo isolani, è vero, siamo persone insomma con le nostre, con i nostri limiti, però siamo anche persone insomma che siamo attaccati a determinati valori e siamo sempre i miei genitori, i miei nonni e tutti quelli insomma che usufruiscono sia dalla spiaggia delle Fornacelle che di altri, di altri arenili insomma e noi ci sentiamo, come si può dire, defraudati da un bene che è collettivo, non solo, poi noi siamo come comune, noi c'è anche un aspetto ora che è secondario però c'è anche l'aspetto diciamo economico perché ci sono direttività, noi si vive anche, abbiamo pochissime spiagge, abbiamo 4-5 spiagge, anzi secondo me questi accessi vanno implementati, vanno messi in sicurezza, non si può passare da un accesso diciamo carrabile a un accesso dove ci si passa con difficoltà pedonale, anzi vanno implementati, secondo me vanno fatti in modo migliore, ecco questo qui il discorso e noi come collettività a questa manifestazione che ci sarà Pacifica Domenica vogliamo portare l'attenzione dal punto di vista dell'amministrazione di tutti gli enti preposti proprio perché non ci siano questi, diciamo questi atti che sono volti a limitare la fluidità e l'uso pubblico di un bene, che è un bene qual è quello che è un bene di maniare. Per quanto riguarda il discorso della vicenda strettamente collegata al discorso della messa in sicurezza di questo fosso, dove i lavori sono iniziati nel gennaio del 2024, il discorso non è tanto semplice, voglio dire che questo fosso nel 2008 era stato considerato un fosso non a rischio, tant'è che il ristorante Le Fornacelle aveva presentato un intervento, un piano di recupero nel 2000 che si è concretizzato nel 2008 e praticamente la regione aveva dichiarato questo fosso nel 2002, in quanto il comune, l'allora amministrazione Bosi aveva chiesto, siccome c'era stato un problema con delle sondazioni, mi sembra di ricordarmi così a memoria, a Ortano Mare, aveva chiesto praticamente i finanziamenti alla regione, lo stato di calamità naturale, la regione giustamente aveva messo tutti i fossi in classe 4, senza fare le opportune verifiche, tra cui in questa classe 4 c'è ricaduto anche il fosso minore delle Fornacelle. Praticamente io devo fare un piccolo intervento di ampliamento, naturalmente gli interventi secondo me di ampliamento, interventi che si fanno se si possano integrare nel territorio, se si va a violentare un territorio l'intervento non va affatto, questo è un mio pensiero, al di là di questo, avevo dimostrato con uno studio, praticamente uno studio fatto da un ingegnere traurico sul corso di derivazione delle acque, prima del cambiamento climatico, i corsi di derivazione venivano fatti su 30 anni, il corso di derivazione è il punto più alto dove l'acqua può salire con delle medie che vengono fatti da un ingegnere traurico, questo corso di derivazione da 30 anni lo abbiamo dovuto portare a 200 anni, 200 anni si chiama, e praticamente avevo dimostrato che la proprietà era in sicurezza, il fosse era in sicurezza, ora dove nasce tutto il problema? Il problema nasce praticamente perché ci sono degli immobili che sono stati costruiti vicino a questo fosso e questi immobili abusivi dovevano essere sanati, ora il fosse era in sicurezza, quindi allora cosa si è fatto? Si è cercato sempre tutto con una procura speciale a nome delle suore, perché figurano ancora le suore, istituto santo spirito salesiano delle suore, Sacro Cuore, si è presentato questo progetto, la regione, la regione ha dato un parere, poi bisogna vedere anche che tipo di intervento, che parere ha visto nel minimo dettaglio, e praticamente questo intervento consisteva nel spostare questo fosso, per fare tutto questo tipo di intervento, la dinamica del fosso, delle autorizzazioni, siamo arrivati e questo è stato l'apice praticamente a, ora a demolire non un muro di contenimento, ma a demolire tutto quello che c'era davanti, che è diverso il discorso, perché anche un intervento di demolizione si fa con un piano ben preciso, si fa con un piano ben preciso, con una cartellonistica adeguata, con un piano preciso per lo smaltimento, per lo smaltimento e quindi si è arrivato all'apice dove c'è stato un blitz, un blitz vero e proprio, sto denunciando questo, questa è la cosa più grave e siamo arrivati praticamente all'apice, a questa cosa qui, che praticamente si è verificato questo intervento dove noi siamo stati vittime, oltre di questa demolizione, ci hanno tranciato cavi, ci hanno tranciato e siamo stati impediti in qualsiasi modo di opporci a questa cosa, poi qui si parla di una scia mandata come i giapponesi hanno mandato a Peralbo con il fuso orario la dichiarazione di guerra e poi l'hanno bombardati giocando sul fuso orario, si sta parlando di cose incredibili, qui sta succedendo cose incredibili, io per carità non voglio attaccare nessuno, è un massima fiducia nelle istituzioni, nel nostro sindaco liberalmente eletto e in tutto, però io devo denunciare questa cosa qui e noi, io, noi come popolazione ci dobbiamo indignare di fronte a questi episodi che hanno portato purtroppo a questo epilogo, perché secondo me questo problema è stato sottovalutato dall'inizio, il problema è questo qui, è stato sottovalutato dall'inizio perché non era una cosa fra privati ma aveva un risvolto pubblico in quanto c'è una spiaggia che ha un interesse pubblico e questo lo dobbiamo fare, io invito tutte le persone, tutti, qualsiasi persona a partecipare a questa manifestazione perché noi in quanto Elbani e non dobbiamo lottare per tutelare i nostri diritti.